Ciao a tutti, sono qui con il nuovo album delle Red Velvet, The Reve Festival finale e adoro, adoro questo packaging, queste scatole così, finalmente un packaging decente per le Red Velvet. Adesso tolgo la plastica, l'ho lasciata perché ha l'adesivo, quindi la terrò nella plastica. Ok, fronte, retro, qui abbiamo le tracce, adoro Psycho, è bellissima. È bellissimo, vi giuro, il miglior packaging della Red Velvet secondo me. Cioè guardate che bello. Oddio, ho messo il mio stomaco. Ok, adesso tolgo le varie foto, eccetera. Allora, abbiamo il cd. Giusto. Ok, adesso vi faccio vedere il resto. Allora, qui abbiamo il photobook. In realtà ci sono due copertine diverse, questa verde e una rosa, è l'unica cosa che cambia in questo album delle Red Velvet. Però il photobook all'interno è sempre uguale. Allora, qui abbiamo il nostro corso, è l'unica cosa che cambia in questo album. No, qui abbiamo il nostro corso, è l'unica cosa che cambia in questo momento. Sí, abbiamo il nostro corso, è l'unica cosa che cambia in questo metro. Allora, qui è il nostro corso, è quello di questo era il nostro corso, è l'unica cosa che cambia in questo caso. Questo è un problema, a firstly, cerchiohuma. Come questoو, quindi se vale, ecco세요. Grazie a tutti. Che belle queste foto. Grazie a tutti. 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 Ok, poi abbiamo la postcard. Ah, prima c'è il classico flow e il classico tagliandino dell'ASM. Una di nuovo e la postcard. C'è un adesivo. Spero che si riprenda. Dopo la caduta che ho fatto. Ok, la postcard. Scusatemi. Oh, che ansia. No, è bellissima. l'ora è la mia bias nell'ora è la mia bias nell'ora di velvet. Oddio. Psycho. Psycho. Bellissima. Bene, per questo unboxing è tutto. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao.